Ecco, ancora un minuto e farai un bellissimo applauso per Matteo Garrone e sua eccellenza Monsignor Mario Delpini, prego, lascio la parola a Don Davide Milani. Grazie Padre Andrea, l'applauso è tutto per il regista di Io Capitano Matteo Garrone. Ringraziamo per la sua presenza anche l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a cui do il microfono. Prego Matteo, vediamo se ne abbiamo un altro, non ti passo questo. Comincerai la prima reazione al film, la chiederei al nostro Arcivescovo, a Monsignor Mario Delpini, che sicuramente oltre a esprimere una sua reazione interpreterà anche il respiro che si sentiva in sala mentre insieme abbiamo assistito a quest'opera. Monsignor Delpini, cosa le ha provocato questo film, come l'ha visto, che reazioni provoca in lei? Il cuore dell'uomo, ecco, ogni viaggio è un viaggio dentro il cuore dell'uomo e quindi questo viaggio così drammatico, così pieno di crudeltà e di solidarietà, ecco, mi dice, ma com'è fatto il cuore dell'uomo che può essere capace di forme di solidarietà così eroiche, così audaci ed essere capace di crudeltà così spietate. Ecco, il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo anche così capace di sognare, di trasfigurare la realtà. Ecco, io, questa è stata, credo, definita anche un'odissea, questo viaggio che aveva una meta e che ha dovuto incontrare tanti pericoli, tante cose drammatiche, ma è che, ecco, credo che ci parla, meno a me, la cosa che suscita è proprio questa idea di dire, ma come siamo fatti? Com'è possibile essere così buoni e così cattivi? Cosa c'è nel cuore dell'uomo perché possa sognare un tale sogno da mettere a rischio la vita? Cosa c'è nel cuore dell'uomo perché uno possa fermarsi in un deserto per soccorrere una persona che sta per morire a rischio della sua vita? Ecco, questa è la cosa più mediata che mi suscita questo film, di cui ringrazio molto il regista perché è stato capace di accompagnarmi in questo viaggio non sempre proprio così facile da sopportare. Ecco, grazie, cosa c'è nel cuore dell'uomo? La domanda dell'Arcivescovo di Milano, ecco, cosa c'è, cosa c'è stato nel tuo cuore in tutto questo lungo viaggio per realizzare, scrivere, produrre, accompagnare questo film? Io direi, intanto volevo ringraziare tutti per essere venuti e direi che proprio le premesse del film nascono proprio dal desiderio di dare voce a chi di solito voce non ha, cioè dall'ascolto e anche dal desiderio di dare finalmente forma visiva a tutta quella parte di viaggio che di solito non si vede e soprattutto dare finalmente a voi la possibilità di vivere un'esperienza emotiva, il viaggio in soggettiva attraverso il loro sguardo. Quindi è un controcampo, abbiamo messo la macchina presa dall'altra parte, di solito siamo abituati sempre a vedere le immagini ormai da anni di queste barche che arrivano quando riescono ad arrivare, la rituale conta dei vivi e dei morti e invece dietro questi numeri noi cerchiamo di raccontare delle persone con dei sogni legittimi come hanno tanti giovani solo che questi giovani crescono all'interno di un sistema che è un sistema ingiusto perché consente a dei loro coetanei di poter andare liberamente magari nei loro paesi in vacanza mentre non consente a loro di potersi muovere e andare a scoprire gli altri paesi. Tra l'altro paesi che loro purtroppo vedono, vedono quotidianamente perché la globalizzazione è arrivata forte anche lì purtroppo quindi in qualche modo loro hanno accesso come i giovani, come i nostri figli, come hanno accesso ai social, hanno dei telefoni, vedono su Instagram, su TikTok come tutti i ragazzi, vedono il nostro mondo, questo mondo che vedono dal telefonino, dalla televisione, è un mondo comunque che fa promesse, è un mondo luccicante, non vedono quello che c'è dietro le quinte e quindi molti di loro, non tutti, il 70% della popolazione in Africa sono giovani, per fortuna non tutti, però una buona parte ha il sogno di venire qua, poi molti di loro come sappiamo arrivano qua, pochi ce la fanno, molti altri poi scoprono la disillusione, scoprono quello che c'è dietro le quinte. Ma questo è un altro discorso, questo sarebbe l'inizio di una nuova odissea, quello che abbiamo cercato di raccontare insieme a chi ha vissuto questo viaggio, questo è un film che io ho fatto insieme a loro, diciamo io sono stato un tramite, sono messo a disposizione loro per cercare di raccontare, cercando di essere autentico, di raccontare la loro storia e il loro viaggio e l'ho fatto con loro, sia in fase di scrittura che in fase di ripresa. Quasi tutte le persone che avete visto nel film dietro gli attori principali sono quasi tutte persone che realmente hanno fatto quel viaggio, realmente hanno attraversato il deserto a piedi o hanno subito le torture in Libia o hanno cercato di attraversare il Mediterraneo, quindi è stato un film corale, per me molto difficile perché mi sono entrato in una cultura che non era la mia e dirigevo gli attori in una lingua che per me era incomprensibile, quindi andavo spesso a fiducia, speravo che dicessero le cose che più o meno avevamo scritte. È un film che nasce sulla fiducia reciproca, quindi diciamo ci siamo fidati gli uni degli altri ed è andata bene. Quindi penso che siano queste le premesse, cioè nasce proprio da un desiderio innanzitutto di ascolto e di dar forma visiva a quello che di solito non si conosce. Qualche settimana fa, dopo che c'eravamo visti, andando a presentare il film, io l'ho presentato in molte sale e una signora si è avvicinata e mi ha fatto i complimenti del film e mi ha detto lei è un regista spettatore. Io non avevo mai detto nessuno regista spettatore, però ho capito che c'era qualcosa di vero in questa cosa che mi ha detto perché io effettivamente, per ricongiungermi alla domanda, effettivamente io molto spesso mi sono ritrovato sul set a essere il primo spettatore, cioè davo azione ma loro in qualche modo mettevano in scemena qualcosa che era legato al loro vissuto, quindi ricreavano qualcosa che era legato al loro vissuto e che per me era del tutto nuovo, inaspettato, quindi io effettivamente non cercavo di intervenire ma cercavo in qualche modo di creare le premesse perché qualcosa potesse riaccadere e questo è stato un po' il mio approccio. Nella liturgia dell'eucaristica di oggi, nell'eucologia, nel prefazio, per chi appunto oggi ha celebrato l'eucaristia, c'è questa frase mentre la pronunciavo alla prima messa ieri sera pensando all'incontro di oggi, metto me la appunto perché vorrei sentire la reazione dell'arcivescovo dopo che ha visto il film. Dice questo passaggio del prefazio di oggi, nell'umanità del tuo figlio hai ricreato l'uomo perché la morte non deformasse in lui la tua immagine viva. Ecco qui vediamo l'immagine dell'uomo deformata, si fa fatica a riconoscere, almeno in prima battuta, che in quei volti deformati dalla sofferenza del viaggio, dalla violenza umana ci sia l'uomo immagini di Dio. Non perché Dio sia ritratto ma perché l'uomo ha fatto di tutto profuscare questa immagine. Ecco qui ci sono la serata organizzata da tante realtà della nostra diocesi che proprio di accoglienza si occupano e molto spesso passa quasi l'idea che l'accoglienza è che lavorare appunto con gli immigrati, con i profughi, con i rifugiati, con chi arriva sia lobby di qualcuno nella chiesa. Beh bisogna le cose più importanti stanno altrove, poi questi c'hanno la passione e non trovano niente di meglio di fare, scusate se banalizzo, che fare accoglienza. Ma appunto il prefazio di oggi e anche la verità della nostra fede ci dice qualcosa di più. Innanzitutto quando tu dici il prefazio non devi distrarti a pensare al cinema, ecco devi dire perché è una cosa però perdoniamo ecco adesso non è. Non so ecco io quando ho detto quel prefazio lì non mi è venuto in mente questa serata. Io pregiamo. Però adesso possiamo perdonarlo ecco il prevosto di Lecco ha talmente tante cose da pensare. No però ecco io credo che questo film in molti aspetti dice che c'è l'immagine di Dio nell'uomo, nella donna. Cioè molte cose che sembrano veramente qualcosa di divino ecco cioè qualcosa che non si può giustificare con un argomento umano. Anche questo muratore che adotta questo sedicenne e lo tratta come un figlio ecco. Sono brani di questo racconto che dicono veramente così che per quanto l'uomo possa essere anche cattivo e negare la sua verità profonda però questa verità resiste. Quindi Dio ricrea in noi la sua immagine attraverso il figlio e quel prefazio dice anche come dalla carne di Adamo è venuta la morte così dalla carne del Cristo è ritornata alla vita. È stato riplasmato l'umanità divina ecco l'immagine divina di ogni uomo. Quindi ecco quello che a me sembra di raccogliere qui è che la storia è drammatica cioè non c'è non c'è da nessuna parte tutto il bene che va tutto bene non c'è da nessuna parte tutto il male che va tutto male perché l'uomo rimane con dentro questa questa vocazione a imitare il gesto di Dio che ecco quindi la mia riflessione su questo è che noi abbiamo bisogno di un rapporto con Dio ecco anche questi che dicono Dio è grande no Allah è grande e questo a un certo punto calma la rissa sulla barca e ricrea una nuova solidarietà e una speranza che non morirà nessuno no queste cose non dicono del protagonismo di un ragazzo che improvvisamente diventa un eroe ma dicono di una potenza della docilità ecco questo mi pare il senso della nostra fede ecco il film finisce con l'immagine protagonista che ci guarda guarda dritto in camera e quindi ci guarda negli occhi e da lì sicuro come idealmente non proprio l'ultima scena però è come se da quel momento cominciasse il nostro film cioè comincia la nostra vita siamo chiamati in causa noi e mi ha colpito a proposito delle reazioni del film dei ragazzi i ragazzi delle scuole che lo stanno vedendo che dicono ma noi queste cose non le sapevamo e diciamo come lo sapevi ne parlano anche sui social sì però ecco tutti sanno tutti vedono siamo travolti dalle immagini dai frammenti ma poi nessuno compone più la storia e nessuno si sente più interpellato perché dietro ogni frammento c'è sempre una giustificazione non possiamo accogliere tutti ma perché scappano ma perché vanno via potrebbero star giù potrebbero stare a casa loro e le singole immagini i singoli frammenti non racconterò mai la verità invece il lavoro del regista il tuo lavoro e di mettere insieme tutto e affinché questa storia ci stia davanti ci parla e ci interpelli sì penso che sia il mio lavoro è quello appunto di raccontare di raccontare delle storie e penso che al di là delle informazioni io io credo che poi di fondo in realtà le informazioni sono la parte per certi versi meno sorprendente nel senso che più o meno si sa secondo me anche i ragazzi sanno più o meno che si muore in mare che si muore durante questo viaggio magari non l'hanno mai visto ma quello che secondo me poi fa la differenza che questi ragazzi attraverso questo racconto intanto è un racconto romanzesco è un racconto d'avventura e quindi accessibile ai giovani entrano emotivamente in empatia col protagonista che è un coetaneo e tra l'altro ha dei desideri che sono molto vicini ai loro ha voglia di viaggiare voglia di cercare di coronare il suo sogno di fare musica e magari cercare di avere opportunità migliori per poter aiutare poi la famiglia a dei genitori che si preoccupano tutte cose che in qualche modo i ragazzi possono riconoscere e si riconoscono quindi in realtà scoprono che sempre ritornando a quei numeri dietro quei numeri che vedono sui barconi ci sono dei ragazzi come loro che vivono un'avventura epica perché poi loro sono i veri portatori oggi dell'epica contemporanea vivono un'avventura epica e soprattutto che hanno la forza questa carica vitale una carica di conoscenza di voglia di conoscere che li spinge a combattere contro un sistema ingiusto a combattere contro contro la morte e combattere per la vita e che secondo me è una cosa che rimane forte del nostro personaggio di seduca interpretato straordinariamente protagonista è proprio che rimane innocente e puro sino alla fine questo secondo me è un messaggio di speranza non nonostante tutto quello che gli accade rimane riesce a mantenere questa sua umanità e questo secondo me è un messaggio importante il cinema fa un racconto in modo particolare la cifra stilistica di matteo garrone in questo film ma l'abbiamo visto anche in pinocchio in reality o nel racconto dei racconti è quello di appunto trasfigurare la realtà quasi nella fiaba ci sono molti toni appunto fiabeschi dentro il film e questo permette a noi appunto di entrare in empatia di non sentirci giudicati per quanto chiamati in causa vorrei chiedere all'arcivescovo proprio questo a proposito appunto del tema delle migrazioni di queste persone che che migrano che bussano le nostre porte non sempre la comunicazione fa il proprio dovere il modo con cui questo fenomeno raccontato molto spesso pregiudica anche i nostri comportamenti forse servirebbe un modo come dire così per raccontare per descrivere questo questo fenomeno in sala ci sono persone che questo racconto lo possono fare perché queste storie le conoscono sono è una delle pagine più belle della nostra chiesa che è bellissima appunto tutte queste persone queste realtà che fanno accoglienza ecco abbiamo una responsabilità anche noi in mezzo di comunicazione la politica nel raccontare il tema delle migrazioni o dei migranti delle persone non stiamo parlando di fenomeni ma di persone questo è una cosa che mi sempre fa soffrire no e questa ottusità del nostro contesto contemporaneo che non sa cosa pensare di questo no quindi questa cosa che diceva il regista cioè di ridurre tutto a dei numeri a delle notizie dietro le quali è chiaro che un numero dice sono morti in dieci sono morti in mille per chi ascolta le comunicazioni suscita emozioni passeggere non riesce a il numero non dice niente ecco se non c'è qualche storia drammatica la lettore l'ascoltatore sente dire dei numeri e non dice niente quando si legge una storia come questa invece è chiaro che appunto l'attenzione a dire dietro numeri ci sono in realtà delle persone del ragazzo dei bambini delle donne che partoriscono sulla barca degli uomini che vanno a cercare un benessere per sé per la loro famiglia delle persone avide ecco quindi il racconto la storia dice che questo tema delle migrazioni non può essere affrontato con l'idea di fare di fare delle leggi che riguardano la quantità ecco la legge deve essere per tutti naturalmente però su questo tema a me sembra che c'è una grave responsabilità sia della comunicazione sia della politica europea sia della riflessione filosofica e anche la chiesa cosa dice di queste migrazioni la chiesa anzitutto cancella la parola stranieri la parola extracomunitari sono parole che non sono cristiane non si possono pronunciare in chiesa perché in chiesa nessuno è straniero quindi il concetto ma questo questo però è un principio da cui partire cioè non è uno slogan cioè è un punto su cui riflettere e quello come si dice la globalizzazione ha invaso anche l'Africa e ha fatto partorire dei sogni improbabili forse ha bisogno di una conversione a una globalizzazione che il papa chiama fratelli tutti ecco nessuno è straniero perché la vocazione dell'umanità è ad essere una fraternità però questo mi pare che l'individualismo contemporaneo che c'è in europa che quella tendenza a utilizzare le notizie per far paura ecco questo è veramente un dramma una falsità e una una un'offesa ecco quindi voi qui che siete appunto impegnati in tante forme di accoglienza di assistenza di integrazione di ecco io vorrei elogiarvi ecco perché forse siete tra quelli che dicono ma noi non ci interessa il tema delle migrazioni poi il tema delle migrazioni ridotto a quello dei rifugiati è sempre anche questo una falsificazione cioè voi che vi dedicate che avete attenzione che siete capaci di simpatia forse potete raccontare voi che c'è una un modo di difendersi dalla notizia utilizzata come seminagione di paura di allarme ecco quindi io vorrei chiedervi ecco proprio di partire proprio dai racconti anche che voi custodite perché poi molti di voi magari seguono personalmente delle persone ad affrontare a diffondere una visione della società una visione del del senso dell'essere europei dell'essere italiani che dica qualcosa che smentisca ecco smentisca dica è falso aver paura per queste notizie e dobbiamo invece noi siamo capaci voi lo testimoniate siamo capaci di inventare un'Italia diversa un'Europa diversa e lo facciamo cioè non stiamo qui a fare dei comizi o delle manifestazioni ma ci mettiamo domani mattina è lunedì e io credo voi andate a lavorare e avete molti probabilmente anche una responsabilità educativa verso gli italiani di accoglienza di promozione quello che ecco io quindi ritengo che su questo tema c'è bisogno di una rivoluzione culturale e che voi potete esserne i protagonisti insieme al regista ecco naturalmente questa domanda la faccio a te perché se la faccio l'arcivesco mi sgrida un'altra volta e sempre nel vangelo di oggi c'era un passaggio che ho letto non ha messa ma anche prima e parlando di Giovanni Battista si citava Isaia che dice preparate nel deserto la strada per la venuta voce di uno che grida nel deserto preparate la via e questa frase è molto evocativa perché questa via preparata nel deserto è preparata in malo modo l'uomo sa essere lupo nei confronti anche dei suoi simili però al tempo stesso queste persone il tuo lavoro tante persone di buona volontà preparano una via migliore in qualche modo un metro un chilometro non lo sappiamo però questa voce cura nel deserto anche la voce di queste persone che non è ascoltata mi accennavi prima a un incontro mi sembra non proprio felice al parlamento europeo dove appunto magari l'europa è chiamata in causa appunto con quella voce quella quell'urlo finale del film punto chiama in casa causa anche la politica chi è chiamato a governare l'europa e a governare questi problemi ecco a proposito di questa voce che grida nel deserto con delle sue sfaccettature come ti poni anche qui ascolto nel senso cerco di vedere poi il film che 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 emozioni sushi non è un film che non nasce con con le premesse di cambiare il mondo perché non credo che un film possa riuscire a farlo però penso che possa riuscire a sensibilizzare tutta una parte di spettatori che vedranno il film soprattutto i ragazzi ma non solo e a riguardo sono molto felice e orgoglioso che il film sia visto in tutte le scuole d'italia che ci sia una prenotazione fino a marzo e quando mi capita di incontrare i ragazzi di solito chiedo sul 500 dico chi di voi ha visto il film di solito due o tre l'hanno visto quindi vuol dire che 497 lo vedranno per la prima volta e si ritroveranno a vedere un film che non avrebbero mai scelto che si aspettano probabilmente diverso ma che invece poi riesce in qualche modo a risuonare dentro le loro coscienze e questo secondo me è importante quindi si può partire dai ragazzi e secondo me molti di loro poi tornando a casa avranno cercato di convincere i genitori ad andare a vedere film e sarà interessante vedere anche al parlamento europeo c'è stata un'accoglienza molto calorosa c'è stata una lunga standing ovation e è stato detto che il film doveva essere visto nelle scuole di tutta Europa di tutta Europa e secondo me sarà molto interessante anche vedere e far circolare questo film non solo nelle scuole d'Europa ma anche nelle scuole in Africa e soprattutto nei villaggi in Africa perché adesso stiamo cercando di portare avanti un progetto che porta il film proprio in quei posti da dove spesso i ragazzi partono quindi magari il film non li bloccherà da questo grande desiderio di conoscenza e di voglia di muoversi di viaggiare però almeno gli aiuterà a vedere quali sono i pericoli a cui vanno incontro e poi volevo aggiungere una cosa che ne ho detto prima che secondo me è un'altra cosa importante che è venuta fuori dal film dall'ascolto dalla collaborazione con chi ha vissuto queste esperienze è il fatto che noi non abbiamo raccontato un tipo di migrazione di chi parte da guerre o come siamo abituati a pensare anche dalla comunicazione che viene spesso fatta in televisione che arrivano arrivano perché sono scappato da guerra come se possono avere diritto a muoversi solo se scappano da guerra o da cambiamenti climatici o da disperazione assoluta invece sottovalutano che molto spesso il desiderio di muoversi di viaggiare di conoscere soprattutto nei giovani è altrettanto forte e questo secondo me è una cosa che è importante che ha fatto piacere molto anche a loro cioè finalmente far capire che loro hanno diritto a muoversi e a viaggiare anche se non scappano da guerra il film ha vinto a venezia leone d'argento il premio alla miglior regia e il protagonista vinto la coppa mastroianni per la rivelazione dell'attore del futuro se in il candidato italiano per la corsa agli oscar i premi riconoscono sicuramente il valore della tua opera ma anche sarà un modo noi appunto auguriamo tutti i premi possibili anche per far circolare ancora più il film per sostenerlo per farlo diventare una visione obbligatoria obbligatoria nel senso di quelli irrinunciabili i premi servono anche a questo e raccontaci qualcosa anche diciamo dei protagonisti di una storia anche che è professionale perché appunto sono la maggior parte appunto sono comparse le persone prese diciamo dentro i villaggi che questo viaggio l'hanno fatto hanno visto chi l'ha fatto ma sono ragazzi che stanno imparando che hanno fatto scuole di recitazione si no nel film diciamo i ruoli più importanti sono diciamo gli interpreti sono attori professionisti quasi tutti e mi riferivo alle figurazioni soprattutto le comparse i due ragazzi i due protagonisti 62 mustafa sono due ragazzi che vengono da dakar 62 in realtà da una cittadina vicino dakar onora da dakar che si chiama ts ea viene da una famiglia di attori la mamma e la sorella sono attrici lui coltivava questo così amore per la recitazione ma ancora di più amore per il calcio lui in realtà sognava di fare il calciatore quindi siamo si è ritrovato a fare l'attore ma continua ad avere il sogno del calcio e mentre mustafa faceva una scuola di teatro dakar entrambi come come tanti giovani avevano il sogno dell'europa e quindi di conoscere di conoscere quest'altra parte di mondo e non c'erano mai stati non erano mai usciti dal senegal quindi avevano in qualche modo gli stessi desideri dei personaggi che interpretavano non sapevano nulla del viaggio sapevano come tanti lì che si muore durante questo viaggio ma non non avevano mai visto nulla quindi si sono ritrovati a vivere questa esperienza in prima persona io ho l'abitudine poi di girare in ordine cronologico e in questo caso non ho non ho voluto dire a loro la non ho voluto raccontare la storia non non gli ha neppure fatto leggere la sceneggiatura quindi lasciavo che il loro le persone se due mustafa i personaggi che interpretavano andassero in parallelo avanti per questa avventura giorno per giorno cioè loro non sapevano se ce l'avrebbero fatta o no ad arrivare in italia e quindi continuamente avevano questa aspirazione questa tensione e anche questa paura di non farcela perché se non ce l'avessero fatta i personaggi non ce l'avrebbero fatta neanche loro e questo insomma è stato un po il nostro metodo di lavoro quindi durante il giorno gli raccontavamo la mattina che avventura avrebbero dovuto affrontare in in oralmente quindi in wolof appunto una lingua per me incomprensibile e poi loro vivevano vivevano questa 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 esperienza questa avventura molto spesso poi facendo anche proprio dei dei regali a me regista e a noi spettatori penso che il primo piano finale di Sei Tu sia un momento che capita raramente nella vita di un regista insomma un dono che lì è accaduto qualcosa che lui ha rivissuto tutto il suo viaggio ha rivissuto tutta la sua esperienza che ha vissuto durante quei mesi tutto quello che ha visto e ci ha regalato questa questa grande emozione quindi penso che la vera forza del film poi sia proprio la capacità che hanno gli attori in questo caso Sei Tu di riuscire veramente ad arrivare alle emozioni del pubblico a farti vivere delle emozioni e arrivare al cuore dello spettatore mentre chiedo all'arcivesco una parola di conclusione vorrei sottoporre questa piccola riflessione questi ragazzi che guardano i social ascoltano musica una musica che non non è collocata come dire culturalmente o geograficamente potrebbe essere la musica che ascolta i nostri ragazzi ecco secondo lei nello sguardo dei nostri ragazzi dei ragazzi che incontra quando fa la visita pastorale visita le parrocchie negli oratori c'è la possibilità di una comprensione nuova dei loro coetanei che migrano che bussano alle nostre porte che arrivano che sono accolti che girano nelle nostre città o sono destinati anche loro a riprodurre i vizi di noi adulti della comunità degli adulti vede qualcosa di nuovo nei nostri ragazzi ma questa cosa dei nostri ragazzi è una domanda molto ampia perché c'è una varietà molto evidente della sensibilità della cultura delle reazioni dei nostri ragazzi che sono quelli che abbiamo sotto gli occhi ma sono molto diversi tra di loro ecco io per dire sono stato a Lisbona con i giovani della giornata mondiale della gioventù c'eravamo lì mi pare che dalla nostra diocesi più o meno erano 6.000 i ragazzi 18 anni più di lì insomma che sono venuti a Lisbona e quella è stata uno spettacolo interessante perché l'idea di essere contenti di stare insieme per ascoltare la parola del Papa per mettersi in silenzio ecco questo mi ha dato l'idea che ci sono dei ragazzi che hanno dentro come una specie di capacità di sognare di desiderare di cercare ecco che per i nostri ragazzi io penso che una cosa che manca in molti i nostri ragazzi è proprio questa idea di avere un desiderio per cui sono disponibili a fare dei sacrifici ecco questi due che hanno sognato un'Europa fantastica naturalmente non so che cosa abbiano visto dell'Europa perché se guardano i nostri telegiornali io credo che vogliono scappare più giù ancora dell'Africa perché dicono se tutte quelle cose gli succedono in Italia come si fa andare in Italia però ecco c'è un mito no che finisce per essere persuasivo e invece i nostri ragazzi qui qualche volta cioè questa cosa mi impressionano di quelli che ne studiano né lavorano in una fascia di età in cui dovrebbero essere a scuola o imparare un lavoro quindi vuol dire ci sono i ragazzi che vanno a Lisbona ci sono i ragazzi che non escono di casa ci sono i ragazzi che si fanno la banda per andare in giro a fare disastri o a farsi appestarsi tra di loro ecco per cui ecco il concetto di nostri ragazzi mi sembra molto vario io evidentemente sono quello che scommette sulla sul sale sul lievito scommetto che il futuro di questi nostri ragazzi sarà quello sognato da quelli che si lasciano attrarre da una missione da una vocazione da un desiderio di aggiustare il mondo ecco questi magari sono pochi magari sono tanti magari fanno notizia magari nessuno ne parla però io credo che noi possiamo avere fiducia nell'umanità e nel suo futuro perché ci sono ragazzi così capaci di sognare di fare dei sacrifici per realizzare i loro sogni e capaci di avere una fiducia nella vita nessuno morirà dicono no non arriveremo ecco una fiducia nella vita che permette di attraversare il deserto ecco questo io penso che possiamo raccogliere come un messaggio di incoraggiamento a essere capaci noi forse qui siamo tutti adulti e una cosa che mi sta molto a cuore è che gli adulti noi soprattutto e quelli che sono vecchi come me o della mezza età ecco siamo capaci di infondere nei ragazzi il desiderio di diventare adulti perché se gli adulti continuano a lamentarsi di tutto e a dire che tutto va male e che non c'è niente di promettente io dico ma come fanno questi ragazzi a desiderare di diventare adulti e io vorrei proprio che noi sentissimo la responsabilità ecco di infondere ai ragazzi il desiderio di diventare non per diventare come noi che abbiamo i nostri limiti e siamo di una generazione passata e però di essere capaci di diventare adulti ecco quindi cioè di assumere delle responsabilità di essere capaci di piantare la speranza là dove vivono e questo mi sembra il compito che abbiamo come adulti il compito che hanno gli educatori i preti i catechisti quelli che che sanno parlare ai ragazzi d'oggi e sanno insinuare in loro l'idea che la vita meriti di essere vissuta e che diventare adulti non è un pericolo da cui difendersi ma è una vocazione da realizzare ecco questo vorrei augurare ai ragazzi nostri a tutti queste parole sono penso la miglior conclusione per la nostra serata ringraziamo ancora Matteo Garrone che ha attraversato l'Italia per essere qui con noi grazie Matteo io non lo fermo l'applauso grazie grazie ringraziamo l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini grazie per il dialogo grazie 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 Grazie. Grazie.